C'è anche l'ex rettore dell'Ateneo Barese, Corrado Petrocelli, tra i quattro imputati per cui è stata richiesta dal PM Luciana Silvestris di Bari la condanna ad un anno di reclusione. Sarebbero coinvolti nella vicenda delle presunte procedure illecite per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina. I fatti risalgono a luglio 2012. Le richieste di condanna sono state avanzate nel processo con rito abbreviato che si celebra dinanzi al GUP. A processo per concorso in abuso d'ufficio, falso e usurpazione di funzioni pubbliche ci sono l'ex rettore Petrocelli, l'ex direttore amministrativo dell'Università Giorgio De Santis, Vito Sasanelli all'epoca responsabile del procedimento amministrativo dei concorsi di accesso alle scuole di specializzazione e Gaetano Prudente dell'Avvocatura dell'Ateneo. Secondo gli accertamenti della magistratura barese, gli imputati avrebbero trasferito un posto non assegnato per la specializzazione in urologia ad un'altra clinica, quella di malattie dell'apparato cardiovascolare, dando così un vantaggio patrimoniale alla figlia di De Santis, vincitrice del concorso. Nei suoi confronti la procura ha archiviato il procedimento. Il processo proseguirà il 5 luglio con le arringhe difensive.